A distanza di due settimane dalla festa che ha sancito l'aritmetica promozione dello Stornarella in prima categoria si festeggia ancora Stornarella nell'ultima gara a Casalinga, lo Scirea contro la Bella Vita in Puglia a Biceglie la formazione del mister Pino De Martino che festeggia davanti ai propri tifosi la promozione in quest'ultima gara a Casalinga intanto il minuto di raccoglimento in memoria del ciclista Michele Scarponi osservato su tutti i campi quest'oggi è il fischio d'inizio del signor Doronso della sezione di Barletta partiti subito con Khaled lo scambio a cercare in avanti il numero 11 Zingarelli che prova a mettere questo pallone in mezzo per la corrente Bozza che con lo scavetto mette dentro il gol del vantaggio dello Stornarella dentro Bozza e diversi giocatori che hanno giocato meno in questa stagione per questo ultimo appuntamento Casalingo per la formazione del mister De Martino, vediamo qui festeggiato proprio Bozza che mette dentro con lo scavetto il gol del vantaggio della formazione bianco-azzurra continua la partita con l'azione di Portosa dall'altra parte lo scambio per la bella vita prova la conclusione dalla distanza il numero 10 De Lorenzo poi ci prova anche dell'olio dalla distanza pallone alto sulla traversa nessun pericolo per Gadaleta poi ancora la conclusione avanti per la vita ancora pericoloso qui il calcio d'angolo con il colpo di testa a mettere in mezzo lì dall'olio poi la conclusione di Dipinto che mette dentro il gol del pari per la formazione ospite festeggiato Dipinto che porta le due formazioni sull'1-1 e qui in colpevole Gadaleta e poi ancora la conclusione in avanti il gol di Michele Ciccone che mette dentro il gol del vantaggio dello Stornarella che si riporta avanti con la conclusione vincente di Michele Ciccone ancora in rete con la conclusione sbilanca di Zingarelli che diventa un assist per Ciccone che si fa trovare pronto e batte il portiere ospite qui con il pallonetto e gol da parte di Magaldi che mette dentro il gol del 3-1 per la formazione di casa festeggiato anche Magaldi che mette dentro un bel gol qui rivediamo la conclusione di Magaldi che beffa il portiere napoletano e poi il fischio che manda le squadre al riposo sul risultato di 3-1 per la formazione di casa si torna poi in campo nel secondo tempo con il Bella Vita in avanti qui prova a fare tutto da solo Dipinto prova a mettere questo pallone in mezzo e gli applausi per Dipinto bella la giocata pallone fuori poi ancora la formazione ospite che ci prova con la conclusione di Dall'Olio che trova una gran rete e accorcia le distanze il Bella Vita che si porta sul 2-3 rivediamo qui la conclusione di Dall'Olio che beffa Gataleta poi il campio dentro Valente per Zingarelli poi la conclusione è il gol di Di Savino che era entrato in campo all'inizio di presa Antonio Di Savino mette dentro il gol del 4-2 per la formazione di casa e quindi vediamo la conclusione di Di Savino che beffa il portiere napoletano poi ancora lo Stornarella in avanti con la conclusione ancora di Di Savino pallone alto sulla traversa cerca la doppietta di Savino con Ciccone che mette questo pallone in mezzo ed è proprio Di Savino che va alla conclusione e la trova la doppietta promessa al tecnico De Martino se la ridono in panchina perché Di Savino entra e fa due gol come promesso al tecnico Stornarella e se rivediamo qui la conclusione di Di Savino ovviamente c'è Goliardia in campo per questa ultima giornata segnerà anche il Bella Vita poi finirà 5-3 qui il fischio finale che manda le squadre negli spogliatori rivediamo anche i fedelissimi che festeggiano lo Stornarella che vince il campionato di prima categoria e come recita la maglia celebrativa è la prima volta in assoluto nella storia del calcio Stornarella che è una formazione di Stornarella vince un campionato solitamente con promozioni tramite playoff e ripescaggi si è arrivati a scalare le categorie lo Stornarella torna così in prima categoria nella prossima stagione qui festeggiano i ragazzi di Mister Pino De Martino e con la immagine noi vi salutiamo per questa partita che si chiude quindi sul 5-3 per la formazione di casa